Musica Buongiorno, sono Maria Gigliotti, presidente dell'associazione New Day che opera presso il CSM, centro salute mentale di La Mezzia Terme, area del Reventino a decollatura. Noi ci troviamo oggi qua nei pressi del comune di Carlopoli, in questa giornata organizzata a livello nazionale partecipiamo con l'associazione Musicami che la dottoressa Francesca Rubettino ci dà proprio una mano a livello della terapia musicale con i nostri ragazzi. Lei, sono circa due anni che è con noi, con questi ragazzi dove ha portato la gioia di stare insieme attraverso la musica. La ringraziamo tantissimo per la sua collaborazione presso la nostra sede che è anche gratis da parte sua per noi. Quindi noi siamo felicissimi di essere qua oggi e gioire insieme nella musica. Il gruppo, ci tengo a dirlo, il gruppo dei ragazzi, per noi sono sempre ragazzi di qualsiasi età, hanno scelto un bellissimo nome al gruppo, Liberi di Suonare. Anche in questo c'è la libertà di suonare anche suonando. Anche in questo c'è la libertà di suonare anche suonando.